Risposte sul trasferimento del burlo a Cattinara le chiede il consigliere regionale del Partito Democratico Roberto Cosolini che in una conferenza stampa ha fatto il punto sul liter che dovrebbe portare al miglioramento del progetto originario già penalizzato da limiti che metterebbero a rischio lo sviluppo dell'istituto nella sua duplice attività di cura e ricerca. C'era stato un impegno condiviso dall'assessore di revisione migliorativa del progetto originario perché appariva inadeguato alle esigenze di sviluppo dell'attività di cura e di ricerca da parte dell'istituto. Si sa che sono stati consultati i professionisti più di un anno fa per impostare questo lavoro ma non si conosce l'esito di questo lavoro. Le necessarie modifiche al progetto erano state richieste in terza commissione e di seguito sono stati consultati i professionisti che lavorano al burlo. Ora, spiega Cosolini, è urgente che la Giunta riferisca entro metà gennaio sugli esiti di questi interventi sia alla commissione che agli stessi lavoratori dell'istituto. È il lavoro che vorrebbe dire che se il burlo si trasferisce, si trasferisce per stare e lavorare meglio. Gli esiti di questo lavoro debbano essere riferiti intanto ai professionisti che sono i primi interessati perché sono quelli che poi ci dovranno lavorare dentro le strutture messe a disposizione e poi in terza commissione perché qui era iniziato questo percorso.